Siamo appena tornati dal lungo viaggio in terra ungherese con tutti i problemi che avete visto nello scorso video e il camper è finito diretto in officina sostituzione completa di tutto l'avantreno, semiassi, cuffie, homogenetici e così via e lavoro fatto abbastanza d'urgenza ho portato il camper in officina lunedì mattina stasera giovedì sera e all'ultimo tuffo il camper è pronto e diciamo anche collaudato su strada tutto perfettamente funzionante domani ripartiamo, vi portiamo a Rimini dove vanessa delle gare abbastanza importanti e poi appunto cogliamo l'occasione di avere qualche giorno in più per fermarci in costiera adriatica e visitare qualche posto decisamente interessante e speriamo anche un po' fuori dai soliti percorsi turistici buongiorno a tutti camperino sotto casa ultimi preparativi e poi si ripari bene tutta la lista dei controlli fatta vanessa mangia dopo essere uscita da scuola, poverina e noi abbiamo già programmato il navigatore che ci dice 4 ore a partire da adesso siamo belli carichi e partiamo no si non provi, ho avuto una 4 ore a partire io sono in strada ma sera in strada buongiorno tutti in fronte non ci siamo in strada non è non è e come al solito andiamo incontro al traffico e alle file speriamo che il navigatore si sbagli e che ci mettiamo meno tempo perché ora come ora dice che arriviamo all'otto e nonostante tutti i miei sforzi di rimanere in autostrada viste le recenti esperienze di strada normale niente da fare, l'autostrada è chiusa e completamente bloccata anche se sembra l'incidente risolto però davanti a noi erano 18 km di coda e coda bloccata, cioè che non cammina quindi tempo di percorrenza lunghissimo vabbè, niente, siamo usciti magari si cammina lentamente però si cammina un po' come quando siamo tornati a casa da Lugheria siamo arrivati all'RDS Stadium di Rimini ora in realtà abbiamo lasciato Vanessa a fare un po' di pratiche amministrative pre-gara insieme alle compagne di squadra prende un po' che posticino sulla passeggiata di Riccione andiamo a dare un'occhiata alla spiaggia mamma mia che bella passeggiata noi siamo mai stati da queste parti veramente bello wow ebbene, archiviato l'impegno sportivo di Vanessa qui all'RDS Forum di Rimini andiamo avanti nella nostra mini vacanza a Ponte del 25 Aprile oggi pomeriggio ci spostiamo in un'area di sosta a Rimini perché sembra che Rimini sia molto bello esce la prima uscita esce la prima uscita e anche per oggi ci siamo sistemati siamo al parcheggio Settebello in centro a Rimini non è un granché anche in una zona di traffico non silenziosissimo abbiamo spesso 20 euro con la corrente più 2 euro il carico dell'acqua lo scarico prima tappa dei Rimini parrucchiere per Vanessa la seconda tappa è il Tempio Maletestiano che è il Duomo della città dei Rimini scopriamo con curiosità il centro storico dei Rimini completamente diverso da quanto mi ero immaginato Rimini infatti nasce in epoca romana e le tracce dell'antica città sono ben evidenti nel tessuto cittadino dopo il Duomo Medievale ci troviamo infatti a passeggiare nell'antico foro che era il vero cuore dell'antica Ariminum da qui in breve raggiungiamo il monumentale arco voluto dall'imperatore Augusto che costituiva la fine della via Falaminia uno dei meglio conservati dell'intera Italia settentrionale dalla parte opposta invece troviamo palazzi medievali del Podestà e della Rego tutto molto lontano dall'immagine di capitale del divertimento che tutti conoscono eccoci ritornati a casa la giornata finisce qui e mi sa che ci rivediamo domani e guardiamo com'è tempo fuori mezzo e mezzo dai da qualche tempo a questa parte il nostro turismo è diventato lentissimo volevo andare a completare la visita di Rimini c'erano delle cose da vedere ancora ma andiamo direttamente a gradare usciamo da Rimini a qui diciamo a rivederci perché sicuramente torneremo siamo a Gradara sono venuto direttamente nel parcheggio che avevo trovato su internet facendo una ricerca su Google Maps che è un po' più lontano dalla rocca però ci ha garantito un posto subito anche se non proprio un piano anzi bello in discesa ma almeno stiamo comodi larghi ormai sono le 11.30 stamani assoluto relax ci siamo alzati tardi abbiamo fatto tutto con comodo e niente prepareremo il pranzo e dopo pranzo andiamo a visitare la rocca e poi ci spostiamo a Montefeltro Concia e dai piatti rigovernati caffè preso e siamo pronti ad andare a vedere il castello di Paolo e Francesca Amor che a nulla amata mai perdona siamo a Gradara il borgo è stato proprio il teatro della celebre vicenda amorosa narrata da Dante nella Divina Commedia si racconta che i due amanti proibiti si siano incontrati proprio a Gradara e abbiano vissuto qui una tragica storia d'amore situato su una collina panoramica l'imponente castello domina la città e offre una vista mozzafiato sulla campagna circostante ora ti mettiamo il lucchetto e ti portiamo via mell'uccellini questo castello costruito nel XII secolo e considerato uno dei meglio conservati d'Italia è circondato da possenti mure e torri imponenti che gli conferiscono l'atmosfera fiabisca oltre al castello Gradara offre un labirinto di stretti vicoli lastricati adornati da edifici in pietra e pittoreschi piazzetti passeggiare per le sue strade è come fare un salto indietro nel tempo ammirando l'architettura medievale e respirando l'atmosfera storica bene, lasciamo Gradara sotto qualche goccia di pioggia che ci ha fatto fare una corsetta perché avevamo lasciato gli obblò aperti ci spostiamo a Montefiore Conca dove se abbiamo voglia facciamo due passi fino alla Rocca se no studiamo, facciamo compiti e lavoriamo anche un po' il compito siamo arrivati all'area di sosta di Montefiore Conca ci siamo rilassati un pochino ora andiamo a fare due passi al paese area di sosta completamente gratuita stalli su eba pianeggianti molto carini allaccia la corrente dice che non tutti vanno ma noi l'abbiamo trovato libero acqua anche vicino alle piazzole e laggiù in fondo c'è la zona di carico e scarico mi sembra veramente un posto fantastico silenzioso lontano dalla strada quanto basta ottimo basta allontanarsi dei soliti posti conosciuti andare un po' più lontano e si trova dei posticini veramente carini grazie a tutti ora facciamo un po di camp and service e poi ci spostiamo alle grotte dell'inferno un uccello scarico una presa per l'acqua una comoda area di manovra e poi ad oggi un fondo si riesce e si lascia l'aria di sosta strada bellissima che sale in questo paesaggio verde battuto dal vento bene abbiamo preso biglietti mentre aspettiamo la signora che ci accompagnerà alla visita delle grotte ci diamo un'occhiata perdiamo 10 minuti a guardare il museo naturalistico ok ci siamo messi i caschetti per l'esplorazione partiamo allora guardate bene da che parte entriamo perché poi passiamo sotto tutto quello che il vostro sguardo abbraccia quindi vuol dire sotto questa bella pieve del 1100 sotto le nostre auto sotto la strada sotto il castrum inferi si è arroccato sulla parte principale poi usciamo dalla parte opposta ognuna entrata un'avventura cavernicola un vero e proprio canyon sotterraneo e un'uscita dalla parte opposta ok Sì Più ci sono boschi pitti sopra i tetti delle grotte e più le concrezioni sotto saranno coloratissime. Oddio, oddio. Ok abbiamo terminato l'interessantissima visita alle grotte dell'inferno che vi consigliamo assolutamente compresa insomma delle esperienze che non vi raccontiamo perché le dovete venire a provare. Stiamo andando verso un agrisurismo ci fermiamo però lungo la strada per pranzo e siamo sotto un bel temporale e quindi finiamo il pranzo con calma ci facciamo caffè e in realtà aspettiamo che smetta un po' di piovere. Vai temporale passato e noi partiamo. E siamo di nuovo a San Marino esattamente dove siamo passati un anno e mezzo fa per Befana stiamo percorrendo la stessa strada e ci sono passati con la neve ora ci passiamo un po' più comodi. Bello Monte Titano visto dal basso. E siamo arrivati sotto un bel temporale che borbotta raggiù lontano dopo strade impervie all'agriturismo Clorofilla. Abbiamo sistemato il camper ora ci attacco la corrente. Qui ci sarebbe la piscina. Questa è un'azienda agricola quindi lavorano la terra. Questa è un'azienda agricola. Sì, sì, sì. e direi che con queste immagini vi invito a iscrivervi ai nostri canali social facebook e instagram dove aggiorniamo le foto quando usciamo col camper e vi teniamo quindi in tempo reale aggiornati se avete domande da farci siamo ben lieti di rispondervi quindi scrivete nei commenti noi vi salutiamo e vi lasciamo magari qualche immagine del viaggio di dentro grazie a tutti